Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O grande taumaturgo San Charbel! Che hai trascorso la vita in solitudine in un eremo umile e nascosto, rinunciando al mondo e ai suoi vani piaceri. E ora regni nella gloria dei Santi, nello splendore della Santissima Trinità, intercedi per noi. Illuminaci mente e cuore, aumenta la nostra fede e fortifica la nostra volontà. Accresci il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. Aiutaci a fare il bene e ad evitare il male. Difendici dai nemici visibili e invisibili e soccorrici per tutta la nostra vita. Tu che compi prodigi per chi ti invoca, e ottieni la guarigione di innumerevoli mali e la soluzione di problemi senza umana speranza, guardaci con pietà, e se è conforme al Divino Volere e al nostro maggior bene, ottienici da Dio la grazia che imploriamo. Ma soprattutto aiutaci ad imitare la Tua vita sante e virtuosa. Amen Padre nostro che sei nei Cieli Sia santificato il Tuo nome Venga il Tuo regno Sia fatta la Tua volontà Come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano Rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre Al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio Ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen E allo Spirito